Caffè, biscotti, caffè Nooo Basta Perché? Un caffè, dire Un caffè, dire Un caffè, dire Reggina contro sette, vergogna, vergogna Vergogna, 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 vergogna Sette contro sette, pivelli Sette contro sette si fa la guerra credo mamma mia ragazzi oddio mi sto avendo una reazione stai impazzendo ragazzi dov'è l'uscita ma stavolta come mettere il pulsante per nascondere la mappa metà delle regole quando premi giri ti esce un'immagine su obs e non si vede la mappa così non ci vanno io ti giuro ti giuro che non ti uccido però vieni più vicino oh matte matte gira matte 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 no 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 hai spacciato cristiano ma su un luogo ci stanno delle armi allora non so io e poi ho fatto girati ha fatto gira ti puoi stare ti puoi stare viaggia viaggia se ne è caduto palazzo e che è la base di power air? non lo sa solo che è frascio ma ronno io zitti nella torcia e non mi prendi un coppino andonio cazzo 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 andonio in un gruppo 4 vuoi venire nel nostro ma sei buono andonio sei nel l'aria sei nel l'aria vedi come fai ma non è nato e l'u... orco dio orco dio orco dio eeeh so buono ma andonio maandone e molto kalo andonio è morto eeeh maandone e molto e' facile quando non ci sta nessuno e' rastro e' rastro non li pensa no no gli spiego il gioco perchè sono abituati forse al mando C'è gente che non ha mai giocato al rasto, perciò parlo Quello, non vi preoccupate, è normale Non ci bannano Salve Siamo dell'Enel Abbiamo bisogno del contatore Ci fate entrare? Il contatore Il contatore, vogliamo sapere C'ha detto Tutto quando con piccola mano Vai, tutto quando con piccola mano Tra sinistra Tra sinistra Tra sinistra Rompete qua, a sinistra Andone è proprio scema Sono a tre Non mi arresta Non mi arrossa E vai C'è c'è la cadu qua, su un po' giro ciao a te ciao ciao Anto, dove va? l'ho messo ciao mi ha fatto arrabbiato ok, è morto è morto con due orsi in lontananza più avanti così, che fai no io non ero offline stavo online buonasera corriere c'è nessuno no c'è nessuno buonasera guarda cattiveria guarda cattiveria in questa società tra i nostri fratelli cacciolati non si conclude un cazzo esattamente cerchiamo di concludere questa cosa a me della tregua non me ne frega un cazzo di maestro benvenuto nel club quindi andiamo alle votazioni le due sono ieri sono ieri sono ieri sono ieri sono ieri sono ieri oh ma che è no lo sapevi io già ti sei ammazzato già ho sapevi si chiama su si chiama su si chiama su chiama su lark? si chiama il smg2 io mio io mio vai 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 dentro dentro vai 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 vai